E' iniziata la stagione dell'ECCO, venerdì pomeriggio raduno e primo allenamento a rigamonticeppi davanti ai tifosi. Domenica la partenza per il ritiro di San Vensan, che vedrà impegnati i brucialesti fino al 28 luglio, agli ordini di Mister Foschi, tra i più acclamati dai supporter del suo vice Malgrati, e di due nuovi membri dello staff, il preparatore Pietro Guidolietti e il collaboratore tecnico Francesco Nenciarini. E' iniziato anche il calciomercato dell'ECCO, dopo le settimane di attesa per la conferma dell'iscrizione in B. In campo, subito un volto nuovo, Brian Boci, terzino sinistro italo-albanese classe 2003, in prestito dal Genoa. Ma anche tante importanti conferme hanno rinnovato, solo per citarne alcuni, le epore giudici Battistini, Galli, Melgrati, oltre al corteggiatissimo Buso, per lì un contratto fino al 2026. Ufficiale anche l'acquisto di Bianconi, che lo scorso anno era in prestito dall'Ancona, farà il percorso inverso Zambataro. Tante le trattative, tra le più concrete quelle per Cortinovis e Armellino, ma la società attende anche una risposta da Zuccon, tra gli uomini chiave della promozione in B. Io voglio dipendere giocatori che hanno voglia di venire a Lecco, hai capito? Cioè per me è un giocatore che mi dice, mister io voglio venire lì, non ha valore, non c'è un costo, non c'è una cosa, perché? Perché sicuramente mi dà di più di chi dice, ma io voglio 10, io voglio 20, ma io voglio 5 in più, però mi devi dare, mi devi dare, no? Quindi se uno viene qua perché dice, ma mister io devo giocare in putta di piedi, non puoi venire a Lecco, putta di piedi no, non si gioca. Con le scarpe a 13 no, ma su sintetico no, noi dobbiamo mettere le scarpe a 6, perché noi ci dobbiamo far sentire, non ci possiamo permettere il lusso di fare tunnel, pallonetto e gol all'incrocio. Poi magari che con l'epone piglia la palla la metta all'incrocio, bene, è un qualcosa in più, però noi abbiamo bisogno di gente che morde e che ha voglia di venire a Lecco, prima di pensare al contratto e ai soldi. Passi in avanti anche sul fronte stadio, settimana prossima dovrebbero iniziare i primi lavori. Finalmente settimana prossima si iniziano i lavori e quindi è chiaro che staremo attenti, c'è chi seguirà i lavori e cerca di farli il più presto possibile, perché chiaramente non vogliamo certamente, ma per tutti, per i tifosi, per noi stessi andare a Padova, perché chiaramente non è dietro l'angolo.